Amo, beh, quindi ci abbiamo deciso che ci mettiamo a capodanno? No, io mi sto venendo grossissima, questa cosa non si può fare Così non va bene, così non va bene, i fatturati sono calati, non va bene, sono un terzo dell'anno scorso Se non dimagrisco in tempo ti giuro che mi ammazzo, non ce la faccio più Se voi pensate di andare avanti da falliti, come ragionate voi, io non sono un fallito come voi E quindi dovete fare le cose come ve le ho spiegate Piuttosto, la festa è molto lontana, con chi vogliamo andare? Piero, ma chi? Quello che ha la macchina da morto di fame? No, non se ne parla proprio, io in quella macchina non ci salgo, che sia chiaro Questi numeri non servono a niente, io non posso fare una vita schifosa perché voi non fate quello che vi dico di fare No, ma dai, facciamoci un viaggio, ma perché dobbiamo stare qua a fare la vita da sfigate che fanno tutti? Se voi pensate che la vostra schifosa vita da 1000 euro al mese debba essere anche la mia Non avete capito niente, io vi licenzio tutti E tra l'altro ho visto che quella figata di Federica mi ha superato con i follower stamattina su Instagram Cioè è imbarazzante, non è possibile e devo postare per forza qualcosa Questi non sono numeri, queste non sono le prestazioni, fate schifo, l'avete capito? Fate schifo, siete dei falliti E io non voglio essere un fallito come voi, sono stato chiaro? Ciao Amo ti devo lasciare, mi è arrivata una notifica di TikTok e sicuramente il mio video oggi ha fatto un milione di visualizzazioni Ok? Ci sentiamo dopo, ciao 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 Deficienti Stare con l'uada Traniero, Zaira, pensateci voi Eccolo qua Ora sei giallo-rosso come me Eccolo qua Stare con l'uada Eccolo qua 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 vita, supporta la bimbulanza. Grazie a chi quotidianamente supporta la bimbulanza e tutte le famiglie e campioni che trasportiamo gratuitamente, grazie e supportateci sempre col 5x1000, grazie di cuore. Grazie a tutti.